Si chiama il Dono del Natale, una delle tante iniziative organizzate dalla parrocchia beata Maria Vergine di Fatima di Sciacca in occasione del Natale. Si tratta di vere e proprie vetrine della solidarietà allestite sotto il porticato della chiesa, una raccolta di vestiti, giocattoli, materiale di cartoleria ma anche dolcini donati dalla popolazione e destinati a bambini e ragazzi fino ai 18 anni. Questa è la terza volta, il terzo anno che parte questa iniziativa, tutta d'opera di volontariato, di servizio gratuito da parte di nostri parrocchiani, delle vetrine allestite con gusto, con bellezza, oltre che cariche di tanti doni, vestiti, giocattoli, cartoleria, le cornie per i bambini. Quindi condito tutto questo da amore, da solidarietà, da condivisione, proprio per rendere tutti i bambini, dare la possibilità a tutti i bambini, anche chi è meno fortunato, chi ha meno possibilità economiche, di ricevere, oltre che un dono, un sorriso, un'accoglienza, in un ambiente appunto bello. Chiaramente diventa sempre questa espressione di un dono, di una restituzione che i nostri parrocchiani, i nostri collaboratori fanno dopo aver ricevuto dal Signore i doni spirituali, perché questo deve essere ed è sempre il senso per noi. Non è un'attività fine a se stessa, ma è una ricaduta di un cammino, un percorso di fede che durante l'anno queste persone fanno e che poi si traduce nei periodi forti in gesti, in azioni concrete. Il dono di Natale si è già svolto nelle giornate del 20 e 21 dicembre scorsi e tornerà il 28 e 29 dicembre ed il 4 gennaio per fare felici tanti altri bambini. Non solo le vetrine della solidarietà, ci sono tante altre iniziative organizzate dalla Chiesa dei Cappuccini per tutto il periodo delle festività natalizie. Ci sono altre iniziative, per esempio tutte le sere davanti alla Chiesa c'è un cosiddetto mercatino del Natale, anche questo un'occasione per fare poi della solidarietà, per devolvere questo piccolo ricavato ai bisogni dei nostri poveri assistiti. Poi ci sono dei concerti, il 26 sera dopo la Santa Messa, quindi alle ore 19 ci sarà un concerto di musica natalizia siciliana appunto animato da nostri artisti locali, il 27 ci sarà un concerto a cura della Schenè Academy che è conosciutissima, anche loro si dedicheranno al tema del Natale e poi ecco ci saranno il 29 ci sarà una recita sul Natale data dai ragazzi dell'oratorio il 6 gennaio l'arrivo dei Re Maggi. Ecco tutte attività che intrecciano la spiritualità con momenti di condivisione, di aggregazione, tutte arricchite e poi coronate anche da degustazione di pizza, casareccia, ricotta che faremo lì sul luogo, ecco la spaghettata, occasioni per stare insieme, per vivere veramente convivialmente quella che è la fede, che ha sempre una ricaduta umana di vicinanza, di attenzione, soprattutto di chi magari vive momenti di solitudine, di sconforto e cose del genere.